questo è un vomere di aratro chiamato arato aspitu perché chiamato spiedo infatti è uno uno spiedo perché ha punta ed è un vomere asportabile mentre in tutti gli altri più moderni sono fissi avvitati stretti all'aratro e questo serve a proteggere questa punta questa punta in legno perché questo aratro è totalmente fatto in legno come vedete segue questa curva qua quindi è ricavato da un che ha avuto già questo movimento e questo aratro questo modello di aratro è il più antico conosciuto al mondo ma voi mi chiederete com'è che ce l'abbiamo qui noi nella collezione perché i nostri contadini contadini del territorio del parametano e dell'entroterra lo hanno utilizzato fino a 60 anni fa cioè immaginate che tipo di non so come chiamarla arretratezza civiltà che tipo di tradizione di usi hanno avuto i nostri contadini con questo modello qui che è fermo a 2.000 3.000 anni fa